buonasera a tutti e bentrovati saluto il nostro caro skywalker buonasera ci siamo credo di sì 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 c'è il nostro caro mattia pozza buonasera ora sera in attesa di rox che sta tornando nella visione di animali fantastici siamo ancora in attesa di rox so che non lo so se lei ha visto moon night perché ha detto che era un po preoccupato tempo non sapeva se faceva tempo quindi io direi di passare già e partire da moon night e non da perché so che ha la vista che anzi lei tanto preparo il banner vediamo nel secondo ma è il terzo episodio di moon night ok quindi ok passiamo partiamo subito da da moon night questa sera e moon night che arriva arrivato oggi su disney plus col suo terzo episodio allora maledizione del terzo episodio perché di solito si sente vociferare questa cosa già dai tempi di falcon di winter soldier da col terzo episodio di lochi il terzo episodio di okai il primo secondo il terzo quarto quinto sesto settimo episodio ottavo e non l'episodio di what if maledizione del terzo episodio di boba fett poi è stato è stato una cosa impressionante credo che quello che è delle motorette e quello delle motorette terzo questo terzo episodio di moon night io ho visto parecchie recensioni a me è piaciuto ma come mi era piaciuto anche il terzo episodio di lochi quello sulla mentis secondo me è uno delle uno dei uno dei punti più riusciti dalla serie di lochi il terzo episodio quindi ci spiegano rivoluzione un po la serie e la serialità della marvel e anche questo terzo episodio di moon night comunque in linea con la serie noi vediamo se qualcuno si aspettava una serie dark scupa con sanguinamenti e palle varie ha sbagliato a toppato perché è ovvio che come lo sarà anche blade e come lo sarà dottor strange al primo horror con tinte horror no sarà uguale esattamente tutti gli altri prodotti marvel cinematic universe e questa moon night è esattamente un prodotto marvel cinematic universe e si vede tutto il primo episodio no il secondo e il terzo possiamo dire proprio di sì episodio che diciamo manda avanti comunque la storia in un punto che io non mi sarei mai aspettato ovvero la l'imprisonamento di consu quindi la sottrazione dei poteri di moon night a di a mark spector e a steven quindi al momento alla fine di questo episodio moon night teoria non c'è più quindi non lo so questo non l'ho capito no perché se tu vedi che man mano che consu veniva imprigionato nella pietra dagli dei moon night c'è il costume veniva veniva meno quindi veniva si veniva veniva tolto quindi credo che non ci sia più il potere di potere di moon night anche perché se se consu se al momento mark steven non sono più l'avatar di consu perché consu è in imprigionato come arthur harrow non è l'avatar di amit in quanto lei comunque dormiente è però arro dei poteri ce li ha ma se sono dati dal bastone magico o sono dati dal tatuaggio da qualcosa dei poteri ce li ha secondo me il costume un po altro ripeto io un personaggio che assolutamente non conosco e non mi sa non ho neanche approfondito così per godermi meglio la serie però come l'impressione che forse dal dialogo che hanno quando lui dice adesso io mi imprigiono tu continua quello che stiamo che sta che stavamo facendo che il costume è un po una storia a sé come se lo possa continuare a giocare ugualmente come se ci abbia dei poteri propri però lo scopriamo subito dalla prossima serie insomma perché effettivamente come dicevi dopo l'impigionamento è tornato con i vestiti normali questo è un vestito abbastanza discutibile c'era ricordo che intanto sento un bip in sottofondo bus bussano bussano alla porta anzi bussano bussano buonasera no ciao buonasera un po strettini ciao rox 3 meglio di due punto interrogativo dipende di che cosa parliamo comunque noi stiamo parlando di moon night allora no no allora il treno non è meglio del due tu hai visto sì l'ho visto però l'ho visto molto molto velocemente quindi non ho preso appunti non ho fatto riflessioni ho un gran bordello noi stavamo parlando della dell'eventualità che ora come ora moon night non ci sia più perché con su stato imprigionato nella nella pietra perché noi vediamo che comunque marca mentre gli altri dei si affloscia si affloscia e tira via se ci si sveste del costume di moon night come puoi fare una serie intitolata moon night dove al terzo episodio di togli potere non gli dai più ovvio che ritornano e ritornerà il dio con su il problema è come c'è questa c'è questo dialogo tra steven e con su chi dice dia marchi di venire in salvare quindi sarà marca dover salvare con su o sarà un qualcun altro o sarà steven a salvare con su vedremo però io credo che ci sia un terzo incomodo anzi è certo che ci sia un terzo incomodo perché gli egiziani cretinotti non si sono accoltellati da soli perché credo che se non è stato mark perché marca anche diciamo titubato nel uccidere un ragazzino perché quel ragazzino non è stato ovviamente steven a meno che steven non nasconda qualcosa ma non penso proprio ci sarà jack 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 che la terza jack jack lockley che è la terza diciamo identità all'interno del corpo di mark di steven e quindi sarà sarà lui punto interrogativo rox perché non ti è piaciuto questa terza o chi è piaciuto meno no non è che non mi è piaciuto ho detto che mi è piaciuto meno degli altri perché mi è sembrato un po troppo confuso e questo questa che dico adesso è una questione di puro gusto personale a me non è affatto piaciuto come hanno rappresentato gli dei egizi senza senza carisma senza per niente non mi sono piaciuti per niente gli avatar sono avatar però degli dei però si ho capito però però cioè per esempio quello di congiù già il nostro moon night già un pochino più carismatico anche quello che vuole diventare l'avatar della dea è un po più cari lì proprio mosci 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 l'ho trovato anche la tizia che cerca un attimo non mi ha piaciuto però questa è una questione di gusto per carità e c'è l'incravattato che sicuramente non la racconta giusta non so e poi l'altro ripeto l'ho visto magari non mentre cenavo quindi magari l'ho visto un po così non non mi sono non mi sono concentrata molto però mi ha sembrato un po confuso del resto l'episodio comunque a livello comunque di storyline dei a parte e come mandano avanti la trama e come si svolge lo trovi debole o comunque lo trovi una buona trama comunque per questa per questa serie non lo so ma sembra per esempio in questo in questo episodio mi ha convinto meno il dualismo mark steven anche perché mi ha convinto meno sì no no ma non è quel mi è convinto meno sta cosa non lo so mi piaceva di più lo steven c'è il fatto che fosse steven a tenere il comando tra virgolette e poi ogni tanto interveniva sto mark in cui invertito il dualismo mi ha piaciuto meno mi sembra mi sembra che funzioni meno è petulante è petulante mentre stai a fa botte no fermati si sopporta anche il suo essere goffo e diciamo ingenuo è comunque invece mark è proprio un mercenario proprio un pezzo hanno stereotipato troppo braccio e mente cioè io mark si esatto si ignorantone non ce lo facevo cioè me lo immaginavo più scopritore più stratega stratega più sai di una volta no all'indiana johnson qua invece mi sembra proprio uno che non sa nulla di egitto sì sì di quello che ha fatto prima quindi non so se lui ha dimenticato perché si è scisso in due personalità per cui parte della sua conoscenza a me mi sembra solo molto coatto sì 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 uno tocca a me e fammi menà pure quella gag adesso ci penso io prendi due due sberle no no vai tu vai tu vai tu e si c'è l'enigma levati di mezzo che te capisci niente prendiamo quell'altro che tu sei scemo cioè non lo so non mi ha convinto però per carità no 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 non è così che la tizia sia più intelligente di bar la tizia è più intelligente di tutte e due messi insieme questo è il problema cioè la tizia da sola lì avrebbe risolto cioè quei due non mi sembra allora devo dire questa a me questa puntata il racconto in sé può essere pure carino proprio la linea narrativa però per esempio secondo me i dialoghi non sono scritti molto bene lei non si capisce innamorata di mark ma steve ma steve ha capito che c'ha lo stesso corpo però un'altra persona steve le può dare giù ma io di quello io quello quella cosa rox secondo me il mark originale prima della scissione conteneva steve ne forse pure qualcun altro e forse è la completezza dei due o barra tre che fa la personale originale perché io ripeto non me lo riesco a affigurare un mark solo muscoli niente cervello ma no secondo me si è scisso quindi si è scisso e quindi parte della sua personalità scusa scusa vai parte della sua personalità quella cervello quella nerd è diventato steven e mark sì sì può essere però questa cosa non mi piace mi piaceva di più nella penultima per esempio i dialoghi nell'altro modo funzionano meglio sono più divertenti sono più freschi così mi sono sembrati un po forzati però magari è una questione di gusto insomma è per carità eccola però diciamo che la puntata in sé come storia è interessante adesso un po' avventura un po' ci sono gli dei poi dobbiamo capire questi poteri degli dei mi è sembrato di vedere un artefatto in mano a un altro artefatto in mano ad arrovo quindi capiamo il bastone no con quella specie di genere sì sì ma poi voi non avete avuto nel momento in cui quello ha preso la statuetta in mano fine puntata non avete visto la statuetta per terra io sì però secondo me se si rompe la statuetta si libera il sì può darsi certamente sì magari succede qualcosa per cui è meglio non toccarla però io quando l'ha presa in mano ho visto la scena successiva polverizzata sì 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 io io resto dell'idea che l'arturaro si stia giocando con dei poteri più grandi di lui se lui si lui era sì l'avatar di consu un tempo magari consu ha scelto lui ma dopo si è reso conto che non era all'altezza di essere il suo avatar e non è e lui si è intestardito fino a questo punto però lui sta giocando con qualcosa di più grande perché noi abbiamo visto il consiglio degli dei gli dei cosa possono fare agli altri dei e io credo che lui intanto saluto il Dottor Scano buonasera buonasera io credo che sì sono ancora convinto che lui stia giocando con qualcosa di troppo pericoloso sicuramente sicuramente sì però lui allora il sonoro ci fa capire che c'è ancora i vetri nelle nelle ciambatte sì sì ma cos'è sto rumore infatti mi sono tolto le cuffie ho detto ma cos'è sto rumore e poi ho capito ma è lui che cabbina c'è ancora i vetri io c'è stato un momento che ho pensato che erano le campane della chiesa faccio ricorda che cosa no invece c'è ancora i vetri nelle ciambatte sì 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 quindi con un fervente quindi finirà male perché è fervente perché finiscono tutti male ma lui finirà male da parte la dea lo farà finire male chiaramente schiazzato schiazzato il problema di conscio che c'ha un po' rox non lo conosco l'effetto venom perché mi sembra il dio sfigato del pantheon no come venom era quello quel piano il piano del turno lo sfigato e venom era la stessa cosa quindi non li credono cioè dice nessuno li crede credono al primo avatar venuto di una dea che poi avevano seppellito nascosto no io non è avatar eh cioè no ma infatti quella infatti quella cosa lì non funziona secondo me non è credibile perché tu non credi a un tuo pari perché un tuo pari un dio come te ma credi a un tizio che diciamo ambisce a diventare servo di una dea che tu hai imprigionato peraltro e quindi la ritenevi pericolosa certo cosa non è credibile nel nascondiglio di questa dea no stava a fare una passeggiata nel deserto cioè o gli dei egizi erano sono veramente dei bambini ma no sai che cosa non lo so oppure il coscio deve aver fatto qualcosa di esageratamente grave ai loro occhi che ormai non io credo che ci mancano ci mancano dei niente ci mancano dei pezzi a beh la narrazione è molto accelerata di questa serie più che le altri prodotti ecco a differenza magari degli altri prodotti Marvel Cinematic Universe partivamo con un episodio di standard qua abbiamo una narrazione molto accelerata ma perché qui qui la eh ma no scusate sbaglio forse sbaglio io magari non mi ricordo ma non è la prima volta che ci presentano un supereroe che noi non conoscevamo prima dal punto di vista filmico eh e no 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 sulle serie dico io questa è la prima questa è la prima questo è il primo personaggio nuovo delle serie e secondo me non gli hanno dato un background ancora poi magari nelle puntate successive ci spiegano eh beh non sappiamo nulla di Steve non sappiamo nulla di Mark non sappiamo nulla di lei continuiamo al terzo episodio siamo a metà serie non continuiamo a sapere non sappiamo nulla di Consu quindi potremmo avere anche una puntata no ci abbiamo dei piccoli pezzetti ad ogni puntata di di ognuno ma non riesce a montare sappiamo che Coscio è stato bandito perché ad un certo punto era a favore dell'umanità mentre gli altri no eh perché si sono sentiti sì forse hanno cambiato dei non lo so esatto sicuramente questa cosa qua e quindi questa questo pezzetto l'abbiamo capito eh nel rapporto tra lei e loro due capiamo che comunque c'è qualcosa che non torna nella totalità delle personalità eh perché Mark è eccessiva ma ovviamente fesso insomma questa cosa non non mi non mi va giù eh almeno come ce l'hanno presentato quindi un pezzettino pezzettino ce l'ha ce l'ho c'è troppa roba ecco forse questa è una delle pecche diciamo di questa serie troppa roba troppo no forse troppo di tutto è un nuovo modo di raccontare la storia di origini al contrario un po' come ci aspettavamo e quindi dobbiamo aspettare l'ultima puntata per avere tutti i pezzi del parlo io credo che stiamo andando avanti non stiamo andando indietro io vorremmo capire l'origine di buona vita cioè vai Rozzo no 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 dico secondo me eh c'è il problema della della non conoscenza del dell'eroe cioè è la prima volta che con una serie tv ci presentano un eroe nuovo e che c'ha di differente da un film è che tu il film prendiamo Ciancino te lo presentano e tu vedi tutto il film quindi tu vedi tutta la parabola dell'eroe e te lo introducono bene male ti piace non ti piace non lo so però tu quando esci dal cinema hai saputo tutta la storia di sto tizio nella serie questo non avviene quindi mentre nelle serie precedenti della Marvel noi abbiamo visto personaggi che bene o male conoscevamo e ai quali bene o male ci si poteva essere affezionati chi più chi meno insomma ok qui invece noi ci troviamo di fronte a un personaggio completamente nuovo dove non c'è stato un film che ce lo ha presentato con una parabola dall'inizio alla fine ci dobbiamo accontentare di puntata per puntata e a mio avviso è scritta come un film lungo e questo la frega secondo me ecco questo è quello che mi ha poi parliamo diciamoci chiaro è un personaggio che è veramente sconosciuto proprio altro che minchia super minchia se se facciamo un esempio se trattavano così l'uomo ragno no facendoci conoscere a ritroso come si era trasformato eccetera eccetera non ci avrebbe fatto la stessa impressione perché noi in testa lo sappiamo lo sappiamo infatti quando quando hanno introdotto Tom Holland come uomo ragno non ci hanno spiegato niente però noi già sapevamo tutto non è un problema è certo è certo sì sì dottor Scano vi do la mia impressione è la puntata che più ho apprezzato ma continua a non fregarmi niente del personaggio l'unico ambito che ha catturato la mia curiosità sono gli dei mi piacerebbe un loro approfondimento io sognavo già uno spin off sugli dei a me non mi sono piaciuti per niente come l'hanno fatti figuriamo metà serie quasi tre ore di girata se consideriamo che conosciamo i personaggi in due ore di film qua non sappiamo nulla quasi nulla di nessuno cioè gli dei egizi tonti ma non si può sentire questa cosa capito gli dei ragazzi io mi ricordo ragazzi l'unico film che ci ha fatto i dei egizi seri è stato Stargate non ce ne sono altri cioè qui i dei egizi tonti ma come si può fare dai ma no ma no allora ci sono due punti comunque in questa puntata il primo è l'omaggio a Gaspar Duglier che è l'attore che ha fatto il il tizio vestito di rosso il tizio che vanno che c'è al sarcofago praticamente ok che è quell'attore che è morto nella pista da sci qua nelle Alpi che è con l'incidente da sci quindi qui c'è stato l'omaggio c'è stato l'omaggio a Stan Lee e al tizio il padre che faceva il padre di Luke Cage il prete che faceva il padre di Luke Cage no non l'ho vista nella serie Marvel Netflix Disney Luke Cage l'ho visto ma non tutti questi omaggi non l'ho visto aveva rimosso gli omaggi inserendo anche questo ha rimesso anche gli altri quindi questa è la prima è l'unica comunque deve apparire solo in questo episodio e diciamo che è l'ultima apparizione dell'attore in vita dovrebbe essere l'ultimo l'ultimo progetto uno degli ultimi progetti la seconda si possono vedere la morte proprio di questo lo affetta con la luna no si gliela tira gli tira il batarang alle spalle però non vediamo né che cade da cavallo né il corpo infatti io mi immaginavo che poi dal nulla come spesso accade compariva lui e la lancia e combinava qualcosa di strano invece adesso mi fai forse l'hanno tolta la scemo adesso capisco perché manca proprio un pezzettino secondo me è Steven dottor Scano dice lo sopporta le gag di Mark durante l'azione è Steven che diciamo quando prendi i panni di Mr. Knight ragazzi scusate scusate dopo viene infilzato vai tu vai tu no no vai tu ecco questo magari questo scambio ecco io lo ripeto magari Rox non l'ha giusto Rox non l'ha sentito no cioè quando c'è stato presentato Moon Knight come serie Disney Plus serie dark serie il primo sangue a catinelle a catinelle si sangue su Disney Plus vedete le novità su Disney Plus no devo dire la verità ci sono due cose che io devo dire che sono state come posso dire una ventata d'aria fresca sono riuscite a fare la prima serie dove il bianco e nero si mischia il colore perché quando sta con i costumi è bianco e nero e poi devo dire la verità io sto provando una passione per il pop arabo che a me una tutto sembrava tranne che pop arabo perché io sentivo sotto e diceva Maria perché c'è perché c'è un po' del neomelodio e vabbè perché l'arabo si diciamo sconfida del neomelodio quando fai i corgaggici però il pop arabo mi sta piacendo quindi se vi aspettate Blade sanguidario vi aspettate tutto strange con tinte horror mettetevi l'anima in pace ma strange con tinte horror io sì perché le tinte horror nel modo nel modo di girare le inquadrature lo dicevamo un po' io di sera con rozzo con The Servant esatto non è che deve forse il sangue ci saranno gli zombie ci saranno delle situazioni sicuramente horror perché poi Remy neanche la casa neanche cioè la casa si è un po' più ormai delle tenebre era una comedy era horror comedy no però c'aveva le tinte come si dice tinte horror era horror puro quindi io quello mi aspetto solo che di questa serie se devo dire la verità hanno fatto vedere due combattimenti il primo quello con gli egiziani sul palazzo mi ha deluso ma proprio deluso cioè coreografie non dico pessime ma secondo me non all'altezza l'altro invece con la questione delle lance bella coreografia bella idea di bloccarlo visto che lui è comunque invincibile di bloccarlo con delle lance quella mi è piaciuta come idea comunque la prima cioè il primo combattimento quello sui tetti che sembrava un po' l'evaction di l'inseguimento di Aladdin con le guardie del io ho detto cazzo questo è Aladdin c'è le stesse location c'è gli stessi tizzi comunque era per farci vedere ecco come nel primo episodio qui era da farci vedere che c'è probabilmente anzi certamente una terza personalità e nel nel primo episodio noi vediamo l'inseguimento col camioncino dei cupcake dove switcha più volte Mark e Steven e noi non capiamo che cacchio sta facendo quindi credo che qua sia stato rappresentato esattamente come sia stato rappresentato nell'aspetalo il tabetto volante sarebbe stato bellissimo esattamente come nel primo episodio quindi io non c'ho neanche più tanto fatto caso no io invece aspettavo proprio il primo le prime botte vere con Mark protagonista l'ultima puntata l'ho visto molto sotto sotto tono almeno senza vestito è molto è stato meglio lei nel combattimento sì ho detto che se lei avrebbe fatto tutto tranquillamente quando quando si è tolta il fermaglio qui ha cominciato a tirare il fermaglio ha detto ma vada a quel fermaglio vabbè però quel fermaglio si vede si vede guardate che buono tiro però se mi giro mi faccio male però gli spuntoni qua se mi giro troppo mi faccio male però guarda comunque ecco però figo il personaggio di lei bisogno di lei che ci viene ci viene presentato lei che gli stampano un passaporto per egiziano probabilmente da colei che probabilmente è la madre o qualcuno comunque veramente legato qualcuno che siano legate strettamente ma io sono una specie di di cui tutto fare mi serve il passaporto un logista capito sì sicuramente si conoscono sicuramente collaborano da tanto tempo sicuramente lei quella altra tizia si fida di lei rispetto del marito che non si sa il marito non si sa quale pezzo di marito che si fidava ancora deve capire con chi sta sposata poi intanto guarda che il microfono va ah vedi si così da solo vedi c'ha i poteri è Mark è Steven e siamo arrivati a un punto ecco Moon Knight dovrebbe essere cronologicamente ambientata cioè l'ultimo cioè più avanti rispetto a tutti gli altri prodotti ok abbiamo avuto narrazioni linee temporali distinte abbiamo avuto Far From Home che era otto mesi dopo WandaVision era prima Falcon era poi dopo Loki era ancora prima di WandaVision quindi c'è stato un po' di incasinamento con le linee temporali Moon Knight dovrebbe essere l'ultima proprio linea cronologica ecco io però anche negli altri prodotti vi aspetto comunque un accenno a questa cosa perché viene esplicitamente cambiato il cielo quindi viene spostato il cielo cioè qualcosa non faranno cenno di nessun tipo è che cazzo però se tu mi fai vedere un qualcosa ho una citazione in ma di tutto l'hanno spostato solo in quel quadrato dell'Egitto non credo voglio dire voglio mandare un messaggio a Conscio io lo so che lui è Dio Egitto è rimasto indietro se lui seguisse Graham Hancock è dagli anni 80 che c'ha un programmino che se metti la data ti rimette il cielo come a quella data è un programmino semplice l'ho scaricato pure io qualche anno fa cioè non ci serve di farlo si è fatto schiamare per nulla si è fatto inchiappettare per nulla c'è esiste pure la tizia che teneva il tablet gigante cioè bastava quello cioè la è veramente ignoranza informatica ad alti livelli cioè hanno dovuto creare tutto quello ma veramente non bastava un softwareino che esiste però io mi aspetto io mi aspetto che in un TG nella serie di Shulk comunque in che cacchio di film c'è dopo Allora se sgamiranno nel momento in cui sgamiranno la mano e la capoccia che esce dalla terra perché ricordiamoci che in un posto dell'universo c'è una mano grande quando penso tutta la Sicilia allora sì cose strane prima la mano poi il giro e il cielo che si gira secondo me tanto grasso che cola se nominano la mano ma il cielo che gira proprio scordatevelo proprio secondo me non si è accorto nessuno no vabbè gli in Egitto se ne sono accorti sì sì guarda nel cielo ho visto che girava dici oh guarda è bello che tè ti sei bevuto stasera quello forte ecco allora tutto a posto comunque aspettative per il quarto episodio ora come ora Moonlight non c'è più no ma questo questo è terribile questa cosa no io ti mando dell'idea che i poteri sono legati al vestito il vestito c'è ancora ma no perché Congiu gli dice come puoi fare senza le le bende guaritrici che ti mando io che io ti ho dato che io ti ho dato ah non dice che ti mando no che io non so l'ho visto veloce perché guarda il tuo è per no no veloce nel senso che non ho seguito bene tutto perché Congiu condivide con Moonlight il potere per spostare il cielo e praticamente io ho avuto l'impressione però può essere pure che poi la narrazione ci deve portare fuori strada altrimenti non c'è il piff hunger per il prossimo episodio che lui toglie il vestito perché è stremato stremato di quello che ha fatto perché il cielo non l'ha fatto solo Congiu l'hanno fatto loro due insieme ah è possibile è vero perché quello dice da solo non ce la faccio può essere può essere stremato il vestito se n'è andato se n'è andato via quindi vedremo la metto la metto come possibilità mi hai convinto vedremo vedremo c'è ci sono secondo me la 4 o la 5 sono Steven e Mark che cercano e l'altro tizio dell'altra personalità cercano di andare a prendere liberare Consul per riprendere potere di Moon sarebbe una serie un po' così ma potrebbe essere pure più interessante potrebbe essere interessante ma ci sono degli umani che fanno cose contro l'idea e mi è piaciuto comunque il combattimento di Moon Knight cioè Mark Moon Knight no Mr. Knight che è un cretino Moon Knight comunque quando è sul campo di battaglia si vede bene anche nello scorso episodio la scena della luna è veramente benissimo no poi io volevo parlare un attimo del passamontagna di Lycra di Mr. Knight no scusate adesso seriamente seriamente il passamontagna dell'Icra non si può vedere ragazzi è peggio di quello di Diabolic che è tutto dire oh quella di Diabolic era meglio oh ma quella sembra capito sembrano le calze cento den che ti metti sai signora anziana quando si mettono quelle calze quello ed è pure smagliato esatto non ci ho fatto caso dopo quello riguardo mi riguardo gli episodi sì sì c'è una cosa qui per far che scondende ma non sì forse l'effetto è quello della calza contenitrice è bruttissima a me non sì quelle lì capito quelle proprio di filanca sono le terribili oh no però non non si può vedere questa cosa mi dispiace ma questo non mi è piaciuto per niente proprio però vedremo cosa ci racconteranno nel quarto episodio che arriverà mercoledì prossimo mercoledì prossimo e poi la stampa sarà in pari perché la stampa è anche italiana alcuni influencer alcuni giornalisti italiani hanno visto i primi quattro episodi dopo da lì in poi dopo sarà tutto una novità in altre due non so sei puntate sì 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 quindi cioè non hanno visto quattro ne mancavano due gliele potevano far vedere tutte cioè che succederà mai queste ultime due puntate avevano caricato la quinta per sbaglio su per qualche ah non lo so cosa su qualcuno della stampa sì non so se era mi sembra di aver letto una cosa del genere che per mezza giornata tipo settimana scorsa la stampa poteva vedere pure la quinta non lo so vabbè vabbè insomma potevano mettere online va bene eh ok quindi noi per Moon Night ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo eh sì mercoledì prossimo che siamo ancora in eh è il 20 quindi dopo Pasqua mercoledì dopo Pasqua sì mercoledì dopo Pasqua eh perché stavo guardando quando uscirà il Dottor Strange uscirà il 4 maggio quando uscirà l'ultimo episodio quindi sarà un un mega puntatone vedremo che ora vado a vedere Dottor Strange però va bene allora noi con Halo e con Moonnet ci rivediamo la prossima settimana o io ve lo dico la prossima settimana ma ci rivediamo molto prima buonanotte a tutti e ringrazio ovviamente Andrea e Rox e tutti buonanotte grazie a tutti ciao ciao grazie a tutti